Alessandro, di solito si fa il percorso verso la riviera del Brenta. Tu mi stai portando dalla parte opposta o sbaglio? No, non sbaglio, stiamo facendo l'inverso praticamente. Invece di fare la descesa da Padova verso Venezia, facciamo la risalita da Venezia verso Padova. Oggi incontreremo Alessandro, che con la sua speciale imbarcazione ci farà fare un tour esclusivo per Padova. Solcheremo infatti il Bacchiglione e vedremo la città da una prospettiva totalmente nuova ed inedita. Padova ancora 11 km, 300 metri di mura intatte e noi ci arriviamo proprio a lambire una lunghissima parte delle mura cinquecentesche e quindi poi arriviamo fino al centro di Padova. Vedo una villa qui sulla destra. Come si chiama questa villa? Questa è Villa Giovannelli, è la prima che si nota da Padova verso Venezia sulla sinistra idraulica come prima villa delle 80 che si possono vedere lungo la riviera. Senti, invece stavo pensando, siccome qui la strada fluviale è abbastanza larga, non è che mi fai provare a guidare? Come no, puoi scherzare? Sì? Ti pidi? Quattro che vuoi scherzare? Siamo su una barca burchiella. È una burchiella, è una vecchia imbarcazione che portava Sasso da Monselice a Venezia. Si chiama Casanova, mi dicevi prima, vero? Sì. Come mai gli hai dato questo nome? Quando è stata trasformata da un'imbarcazione che trasportava Sasso ha un trasporto di passeggeri per collegarsi al ragionamento di questo signore che è fuggito dai piombi di Venezia assieme alla Bate, ha navigato lungo la riviera del Brenta su una di queste imbarcazioni per arrivare fino a Padova. E si chiamava appunto Casanova. Casanova, beh, certo. Poi sono brava perché c'è il tecnico con il faro proprio lì e quindi ho una visibilità limitata. Ma che meraviglia Alessandro qui. Ma tu sei sicuro che noi siamo nel centro di Padova? Sì, sì, qui siamo proprio a ridosso dal centro storico, le murie cinquecentesche veneziane, vedi che siamo proprio vicinissimi. Ma in che punto esattamente con tutto questo verde? La parte est della città, siamo rivolti verso la parte che va verso Venezia, rivolti proprio alla parte est e questo era il Castelnuovo, il castello voluto dalla famiglia Loredana, voluto dai veneziani. La famiglia Loredana doveva diventare il Castelnuovo, doveva diventare praticamente la nuova residenza dei Loredana in questa zona, sì. E di che periodo è più o meno questo? Qui siamo all'inizio del 1500. E vedo anche il leone di Venezia. Sì, quello è un leone originale marciano. Quindi è la porta principale da dove le imbarcazioni da Venezia arrivavano. Quelle che venivano da Venezia arrivavano qui, quelle più grandi, le più piccole, sopra la statua cefala che vedi dove c'è San Prosdogimo praticamente, e la parte più grande dove c'era il leone, entravano i veneziani con le imbarcazioni più grandi. Grazie Alessandro perché mi stai facendo vedere una padova totalmente inaspettata. Credo che nessun padovano riconoscerebbe questo luogo se lo vedesse. E che cosa c'è poi dietro con l'insenatura? Guarda, tu rimani qui, io vado in plancia e ti faccio fare questo tratto di navigazione e vedrai che c'è un ambiente verde che è spettacolare, veramente meraviglioso. Sì, allora rimango qui. Alessandro, dove siamo arrivati ora che vedo questo ponte con queste scale? Allora, siamo arrivati a Porta Portello, una delle cinque porte rimaste di Padova, ne aveva sette, ne sono rimaste cinque, ed è la più carina, diciamo, la più importante, la più imponente perché è rivolta a Venezia, ovviamente. Siamo arrivati alla scalinata cinquecentesca che abbiamo qui sulla nostra destra ed è una scalinata che all'inizio degli anni Ottanta era completamente coperta dalla terra. E come l'hanno scoperta? Alcuni padovani sono andati al Metropolitan Museum di New York e osservando dei dipinti del canaletto sono ritornati a Padova e hanno investito del problema. Si sono accolti che c'erano nei quadri del canaletto queste scale? Queste scale, esattamente. Quindi hanno investito del problema l'amministratore comunale che all'inizio degli anni Ottanta hanno cominciato lo scavo, cominciato ad affiorare quello che vedete qui sulla vostra destra che è appunto la scalinata, una delle scalinate cinquecentesca. Incredibile come riscoprire un tesoro. Assolutamente sì. Ce la facciamo a passare? Arriviamo dentro alle porte contarine, proprio alla seconda conca ideata da Leonardo da Vinci. Ormezziamo proprio all'interno della chiusa. Sotto l'arco. Facciamo l'arco proprio delle mura cinquecentesche ed è l'unico punto dove le imbarcazioni entrano all'interno della città murata. Bene, grazie ancora e la prossima volta sappiamo anche una bottiglia di vino. Ben volentieri. Visto che prima mi hai raccontato e con questo chiudiamo che avete fatto diverse feste su questa barca, su Casanova. Che cos'è che dicevano i tuoi amici? Hai conosciuto a Padova come l'unica imbarcazione che ha visto più vino che acqua. Ecco. Più avanti di così non si può. Il mio viaggio di oggi termina qui, ma Monica e il team di Zero Consensi vi aspettano per il prossimo appuntamento. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube di Zero Consensi per restare aggiornati su tutte le novità.